Lautaro, deviazione, Lautaro, Martinez, 23 sul cronometro, 1-0 per l'Inter, ha provato dalla distanza, ha trovato la deviazione e ha trovato anche il gol. Lautaro Martinez da fuori, deviazione di un giocatore della Brescia, palla che si impenna e beffa, Alfonso. Lautaro, Martinez, è il toro! Il diciottesimo del secondo tempo, 1-0 per l'Inter, con Lukaku che prova a farsi vedere, Lukaku attraversa l'area, Lukaku, Romelu, Lukaku, 2-0, sempre loro due, il toro e Lukaku. E c'è appena stato il meraviglioso raddoppio di Lukaku, azione personale della Belga, è arrivato al limite dell'area, sinistro a giro, di potenza e angolato, volo di Alfonso, ma non ci poteva far nulla. Lukaku punta l'avversario, Lukaku, Lukaku, s'accentra, palla sul sinistro, Lukaku, prova al sinistro, Lukaku, 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 un gol, meraviglioso, meraviglioso, Lukaku! Bisoli corre in pollo! Dimitri Bisoli!